Che cos'è la collezione storica invece del premio con Passo d'Oro? Allora, il premio nel tempo ha dato luogo alla collezione storica perché tutti i progetti, io parlo di progetti perché di fatto ci possono essere degli oggetti fisici oppure ci possono essere dei servizi o possono essere delle ricerche, quindi i progetti che hanno vinto un compasso d'oro o una menzione d'onore che è altamente qualificante, chiaro il compasso d'oro io la metafora che utilizzo è sempre quella della competizione olimpica, è evidente che la medaglia d'oro è il valore apicale ma anche arrivare a concorrere alle olimpiadi insomma significa che uno deve avere certe qualità, quindi le aziende che hanno meritato una menzione d'onore in qualche modo la divulgano l'informazione, sono molto contenti anche di questa cosa pur non essendo il riconoscimento apicale, ma è comunque molto importante. Quindi premi con Passo d'Oro e menzioni nel tempo hanno dato luogo alla collezione storica del premio con Passo d'Oro che per lungo tempo è rimasta chiusa in magazzini ed è stata la base per tutta una serie di mostre nazionali e internazionali perché essendo uno spaccato dell'evoluzione in qualche modo del progetto ma anche della società perché ogni oggetto poi è segno del tempo, delle tecnologie, delle materiali di un certo momento storico e quindi ci possono essere diverse chiavi di lettura, quindi la collezione storica può essere letta da diversi punti di vista o in riferimento a un particolare settore, o in riferimento a una tecnologia, a un materiale o a un territorio e via discorrendo. Però l'aspetto eccezionale, se vogliamo, che per la prima volta il Ministero dei beni culturali, quindi in generale un ministero, nel nostro caso quello italiano e in particolare la soprintendenza della regione Lombardia, nel 2004 ha dichiarato la collezione storica di eccezionale interesse artistico e storico. Che cosa significa? Che la collezione storica del premio compasso d'oro è protetta dalle belle arti, cioè è indivisibile, inalienabile e costituisce un patrimonio per la nostra nazione. Perché è un patrimonio? Un patrimonio perché ci fa capire di fatto, come si diceva, le cose sono in relazione alla società e al tempo, quindi segnano il passo di quella che è stata l'evoluzione sociale, economica, tecnologica del nostro paese. Ultimo aspetto, quindi l'eccezionalità di questa cosa è data dal fatto che, se considerate che il premio è stato istituito nel 54, ad oggi ci sono circa 400 premi di compasso d'oro, circa 2000 pezzi o comunque progetti che fanno parte della collezione storica del primo compasso d'oro. Numeri che in astratto non dicono niente, però capite che se è la storia di quasi 70 anni, questo vi fa capire quanto possa essere ambito. Da un lato è difficile vincere un riconoscimento di questo tipo.